Nome Tonio Thomas Cognome Liuzzi Viaggi Detto Furia Il leone Perché Perché non sto mai fermo Tre aggettivi che descrivono il tuo compagno di squadra Pignolo Grande professionista Veloce Competitivo Tre aggettivi per la tua Mercedes C63 Muscolosa Veloce Di carattere Adrenalina, muscoli e grinta Se ricordo bene sono i cognomi dei fondatori e la cittadina dove è nata la prima officina Circuito preferito? La Superstars si vince con Costanza I punti del dash Tonio, dai una dritta a Thomas Vai piano Thomas, dai una dritta a Tonio Tenzo il pe Il tuo compagno di squadra ti ha appena superato sotto la bandiera a scacchi Impossibile Cosa ti dicono dal muretto? Ottimo Tonio, bella gara Bip, bip, eh Tom, bip, bip, eh Bip, 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 bip In pista non si deve mai Lasciar passare chi è dietro Mollare Saluta il presidente di Mercedes Presidente Schöngutmorgen Presidente Mercedes Willkommen in Monza La tua prima volta? Bei ricordi Era un'infermiera delle... No, ma cosa hai capito? In pista No, ma non è stato in pista Eravamo a casa Quando avevo 11 anni Ah, la prima macchina La prima volta in pista Misano con la formula Alfa Boxer Nel 1993 Avevo 16 anni E l'ho provata nel parcheggio del circuito Donne e motori Dolori e dolori Gioia e dolori Anche qualche gioia Come fa la tua C63 AME? Se dovesse andare male in Superstars Avete pensato a Zenig? Fallirebbe Il mio amico Giacobatti mi dice sempre Che lui non viene a dare le sportellate in pista E quindi quando io un pochino esco dal seminato Ecco, mi redarguisce così Thomas, incita Tonio Tonio, dacci dentro Tonio, incita Thomas Vai, Thomas Invento uno slogan per la Mercedes AMG della Superstars Tonio, AMG e Superstar, un trinomio vincente Mercedes C63 AMG, nata per vincere Salutatevi Ciao, Thomas Ciao, Tonio Ciao, Tonio